Ebbene sì, siamo arrivati a 6.000 iscritti su YouTube! E per ringraziarvi mi sono inventato un concorso molto carino, quindi seguite tutto il video. Ma prima cartello! Investi responsabilmente e a tuo rischio, come sempre. Allora, visto che vi piace tanto fare i trader, tanto per cambiare, con BravoTrader2 faremo un esperimento simile a quello passato, ma molto più semplice. Allora, questo qui è il grafico del Bitcoin adesso, quindi che dire, diciamo c'è stata tanta aspettativa, in questo momento non vedo particolari notizie, né negative né positive. Se proprio dovesse azzardarmi a fare una previsione direi che se dovesse andare sotto questa linea ce la vediamo male, se invece dovesse superare questa linea dei 10.000, probabilmente potrebbe accadere che l'interesse del pubblico generalista sia di nuovo riacceso. Allora, cosa consiste il concorsone? Dovete rispondere a questa domanda con una transazione su Stimit. Quindi, che prezzo avrà Bitcoin il 27 maggio 2018 alle 18? E ovviamente per rispondere avete tempo fino a domani, fino alla fine del 24 maggio. E per partecipare facilissimo utilizzeremo una caratteristica, secondo me, poco conosciuta di Stim, che è la possibilità di avere, diciamo, il memo privato, quindi, diciamo, la causale della transazione privata. Quindi, come deve essere fatta questa transazione? Appunto, di qualsiasi entità, ovviamente a Luigi Tecnologo, e poi come memo dovete mettere cancelletto, mi raccomando cancelletto, dollaro e, diciamo, la vostra previsione per quella data. E in che cosa consiste questa transazione? Consiste in questo. Cioè, praticamente, voi andate su Transfer. Transfer. Potete fare la transazione come credete, quindi, per chi ancora non l'ha mai fatto, qui mettete il nome, qui mettete la montare, potete mettere quello che volete, e questo campo memo. Normalmente le persone qui possono mettere qualsiasi cosa, addirittura in Stim viene utilizzato per lo spam, questo campo memo. In questo caso dovete mettere cancelletto, e poi mettete, appunto, la vostra previsione, e fate next. Perché fare questo? Allora, il risultato, poi, è questa cosa qua. Nel, diciamo, voi che fate la transazione, vedete, ovviamente, il contenuto. Ma la cosa carina è che questo, diciamo, il valore, i dati contenuti in questo campo, in realtà sono privati. Quindi qualcuno l'ha utilizzato, non so, per mandare messaggi tipo chat, oppure, come vedete, spam. La cosa carina di Stim è che lo spam vi paga, per quanto poco vi paga. E comunque, mettendo questo asterisco, anzi, il cancelletto davanti, nel campo memo, quello che ottenete è questo. Cioè, in realtà, nella blockchain pubblica, dove, appunto, ci sono tutte le vostre interazioni con Stimit, qui mettete, appunto, steamd.com, è il nome dell'utente. Nella blockchain pubblica, se voi iniziate il memo con cancelletto, in realtà, qui vedete il campo criptato. E, secondo me, questo tipo di funzionalità può essere utilizzata per applicazioni abbastanza interessanti in futuro. E, appunto, questa volta volevo fare un esperimento, appunto, con la previsione del prezzo di bitcoin, una sorta di, ok, il prezzo è giusto. E quindi, che dire, se volete partecipare, partecipate, non è particolarmente difficile. Se vi piace l'iniziativa, fate re-steam e mettetemi un upvote. E, che dire, vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!